I nostri politici li abbiamo chiamati i belli addormentati nel porto, il trio Seri, Aguzzi e Carloni che proprio in questi giorni si sono svegliati da un torpore riguardo al dragaggio del porto. In realtà la sveglia l'abbiamo già data noi il 19 marzo con una presentazione dell'interrogazione, appunto interpellanza in realtà sulla problematica del dragaggio e abbiamo dato lì delle soluzioni, proprio le soluzioni che oggi loro stessi stanno riproponendo, ma noi ne siamo contenti. Vale a dire che più della metà dei fanghi del nostro porto in classe A possono essere ributtati in mare in una zona di immersione nei pressi di Ancona. Questo noi l'abbiamo scoperto non tanto perché siamo dei maghi ma perché abbiamo letto i documenti, già dal 2009 le analisi permettevano questa opzione e oggi fortunatamente le analisi ARPA mi hanno confermato questa opzione. Perché tutto ciò? Perché praticamente non c'è stata assolutamente programmazione politica, si è lavorato sempre in emergenza spendendo una marea di soldi quasi inutilmente. Ecco, forse è ora oggi di mettere in regione forze fresche, noi abbiamo come candidato presidente Gianni Maggi, la nostra candidata fanese Rossella Accoto come consigliere regionale, bene abbiamo già lavorato con loro, abbiamo studiato nuove soluzioni per il dragaggio del porto e forse queste persone hanno la credibilità per fare tutto ciò.